Ciao a tutti, buon pomeriggio e quasi buona sera perché è tardo pomeriggio. Come state? Buon lunedì. Io ho fatto quattro giorni praticamente con l'occhio toppato perché non era un colpo d'aria ma mi è uscito un calazio sull'occhio e quindi praticamente sono anche rimasta a letto due giorni perché non ci vedevo un tubo e mi faceva un male come se avessi preso un pugno sulla faccia praticamente fino a qua sotto. Quindi mi vedrete praticamente quasi struccata ma ho preferito non truccarmi troppo per paura poi che si infiammasse ancora tutto. Adesso sembra fortunatamente passato e la luce spero non diminuisca perché sta arrivando un temporale bomba ma d'altronde abbiamo fatto questo video apposta con questi cinque profumi che stanno chiamando primavera perché vogliamo la primavera, anche la sottoscritta. Allora, cinque profumi che mi sono accorta tutti sui toni del rosa, quasi tutti low cost, quello che ho pagato di più l'ho pagato mi pare sui 35 euro anche se adesso ho visto che ha aumentato paurosamente, io l'avevo comprato due anni fa. Ma bando alle ciance iniziamo subito con questo video che farà esplodere la primavera e il caldo perché questi profumi chiamano estate e primavera. Allora, primo profumo, ho qui anche la mia muietta perché oggi li ho provati, oggi ho preso un giorno di ferie perché avevo paura di non riuscire a guidare e di stare troppo al computer quindi mi sono presa un giorno di ferie e ho provato a fare il video, il video riesco a farlo bene quindi domani ritorno al lavoro. Primo profumo della selezione, si chiama Pink Sweet Sixteen di Jeanne Artesse, è un e de parfum ed è, allora, 100 ml. Un profumo molto semplice, molto molto carino, tra l'altro molto sfizioso nella confezione che trovo perfetta per una ragazzina, quindi per me e per tutte le ragazzine di questo mondo ma a parte gli scherzi, mi piace davvero tanto, bello colorato, bello estivo. Un profumino che costa veramente una stupidata, 8,60€ su notino ed è sfiziosissimo. Allora, in testa abbiamo lampone, arancia, fragola, cuore, mughetto, frutti rossi, zucchero filato, fondo, vaniglia, fava, tonca, caramello. Un profumo fruttato, gourmand e fiorito. Allora, io oggi per riscrivermi me li sono spruzzata ovunque, adesso facciamo la professionals e lo spruzziamo qua. Allora, questo è veramente un dolce gourmand fiorito e fruttato. Allora, la fragola, il lampone, lo zucchero filato, si sentono tantissimo. Hanno paragonato questo profumo al Pink Sugar ma io che l'ho sentito da Tigotan non l'ho mai voluto acquistare perché mi sembrava veramente troppo caramelloso, troppo zuccheroso. Secondo me, gli assomiglia perché è comunque un gourmand dolce, zuccherato, vanigliato, da festa di paese estiva, di quello zucchero quasi caramellato che si scioglie sulla frettella. Avete in mente quel profumo che è paradisiaco? Ecco, è questo. Però ha comunque un tono fruttato e un tono floreale che non va mai via, quindi vi accompagna diciamo questa nuvola di zucchero filato un po' fruttata, un po' fiorita ma al contempo golosa zuccherina. È buonissimo, veramente buonissimo. Allora, è un profumo che dura sulla mia pelle 3-4 ore, non di più, ma sapete che per i gourmand per me è meglio. Lo trovo zuccherato e gourmand sì, ma non troppo e quindi secondo me è ancora perfetto per la primavera. Per l'estate forse aspetterei per testarlo perché non vorrei che fosse magari troppo dolce e a me troppo fastidioso. Vi dicevo, non dura tantissimo, ma mi piace per esempio se lo indosso la mattina al lavoro e questo l'ho già indossato parecchie volte, infatti vedete che insomma è già a due dita in meno. Poi nel pomeriggio se lo voglio rindossare magari lo stratifico con un profumo al limone oppure un profumo al tiaree, un mononota che magari ho presente nella mia enorme collezione di profumi. Sto scherzando ovviamente, no, è enorme la mia collezione di profumi, ma io non la chiamo collezione perché comunque i profumi pian piano li provo tutti e li faccio girare. E quindi lo trovo veramente, veramente perfetto per questa stagione che è sì calda, cioè o meglio dovrebbe essere calda ma ha anche delle giornate che alla mattina le temperature sono abbastanza favorevoli come alla sera. Questo se lo spruzzate siete proprio avvolti da una nuvola di zucchero filato, di caramello però c'è anche il frutto del lampone, l'arancia, la fragola che smorzano un attimino questa dolcezza che potrebbe essere magari prorompente quando la spruzzate all'inizio. Un profumo davvero molto molto carino che trovo perfetto anche da regalare a parte la confezione che trovo veramente deliziosa ma anche ad una ragazza molto giovane che si sta così avvicinando al mondo dei profumi e vuole provare qualcosa di dolce, di giovanile, di sbarazzino molto 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 carino. Ve lo consiglio, 8,90€ io l'ho preso su Notino. Sapete che i miei profumi sono quasi tutti acquisti al buio ma non me ne pento quasi mai perché penso che il mio naso nonostante sia un naso non raffinato e non specializzato sappia ormai quali sono le note che gli possano piacere anche se in generale mi piacciono tutte. Secondo profumo e qui saliamo, saliamo. Allora si chiama Comune Evidence di Yves Rocher. Questo profumo è meraviglioso. Le ottengo tutte le scatoline, tutte, tutte, tutte perché poi dopo le ripongo nel mio armadio al buio e così riesco anche a metterli sopra uno sopra l'altro. Se invece li metto da soli secondo me occupano molto più spazio. Vedete che qua sono andata in abbondanza. anche questo ha un flacone molto semplice, molto lineare ha un liquido color rosino chiaro questo profumo per me è una bomba questo lo metto alla mattina e ce l'ho su fino alla sera durata e scia meravigliosi. Mamma mia! Io paragono subito, mi viene in mente l'immagine di una sposa una sposa molto semplice, molto elegante, molto raffinata, molto giovane questo profumo per me è adatto ad una sposa è meraviglioso con magari una coroncina di rose in testa è un bouquet di rose molto molto semplice buonissimo allora, è una fragranza del gruppo cipriato floreale da donna e le sue note sono le note di testa, rabarbaro e foglia di violetta cuore con mughetto e rosa base, muschio di quercia, paciuli e muschio è un profumo brillante aperto un floreale bianco che sto amando tantissimo l'ho messo anche quest'inverno ma secondo me in questa stagione dà il meglio di sé cioè emana allegria, briosità, leggerezza limpidezza è un profumo cristallino leggero ma nel contempo resistente e persistente io lo spruzzo alla mattina e davvero mi dura 7-8 ore cioè entro in macchina dopo che l'ho spruzzato e lo sento, cioè entro in macchina la mattina alle 7 e mezza quando rientro a mezzogiorno c'è e c'è tutto e quando cambio ambiente per esempio sul posto di lavoro io se rientro nell'ambiente che ho lasciato 10 minuti un quarto d'ora prima lì c'è proprio questo profumo è un profumo meraviglioso questo vi dicevo è uno dei profumi che ho pagato di più se vogliamo dire adesso l'ho visto e costa sui 54 euro io l'ho comprato due anni fa e ricordo che in una scontistica speciale dalla rappresentante di Yves Rocher che ai tempi mi seguiva l'avevo pagato sui 35 euro comunque il prezzo era più o meno quello però secondo me li vale li vale veramente tutti è un profumo elegante dove si sente il mughetto e la rosa che fanno questo bouquet al contempo interessante, fresco, cipriato, talcato meraviglioso è un fiorito comunque fresco non opprimente nonostante ci sia il profumo della rosa che è ben bilanciata dal mughetto è brioso, sbarazzino e in asciugatura esce anche un po' la freschezza del muschio quindi è davvero perfetto per la primavera ma lo trovo sicuramente perfetto anche per l'estate un profumo meraviglioso che io immagino e abbino all'immagine di una sposa giovane, briosa, allegra ma comunque semplice nel suo vestito con un bel bouquet di rose bianche o rosa o anche magari con dei mughetti è veramente veramente perfetto questo è un profumo top 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 un signor profumo buono 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 terzo profumo è lui purfemme di pierre carden allora sapete che io ho tra i miei profumi tantissimi profumi che possono essere definiti vintage perché sono stati formulati cioè magari sono anche riformulati però perché sono stati creati negli anni 90-2000 e devo dire che io ho una predilezione per i profumi che vengono creati da delle case da dei brand creati da stilisti perché non lo so perché sono affezionata agli stilisti sia italiani che stranieri questo secondo me è un piccolo gioiellino e mi spiace che su youtube si parli spesso di tantissime novità di profumi arabi di quello che sono i profumi di nicchia di tutti i profumi magari anche un po' originari un po' particolari ma lasciamo indietro e tralasciamo quello che è la profumeria se vogliamo chiamarla classica la profumeria di una volta che ha ancora tanto 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 da regalarci e questo è un profumo di quel tipo allora le note di testa sono cannella, arancia, mela e ribes le note di cuore sono violetta, rosa, mughetto gelsomino e biancospino le note di base sono nettarina, caramello sandalo, vaniglia muschio, favatonca ambra, leno di cidro paciuli e vetiver allora come vi ho già detto una volta io rimango sempre un po' stranita da tutto quello che trovo su fragrantica perché secondo me alcune volte ci vogliono trovare delle note che bisogna per forza trovare allora è un profumo che si distanzia un attimino dai primi due che vi ho raccontato perché è un profumo caldo speziato floreale e dolce quindi perfetto per quelle giornate magari nuvolose un po' freschine dove vogliamo ancora rintanarci in quell'abbraccio caldo che potrebbe essere della coda dell'inverno o comunque una giornata dove vogliamo sentirci al sicuro coccolate da questo mix legnoso e speziato dolce che questo profumo rilascia adesso è giusto aspettate che qua sto confondendo tutte le moglette allora troviamo questa apertura con una cannella in polvere ma non una cannella dolce che mischiata ai frutti ci regala quel sentore gourmand è speziato da quasi dolci tedeschi di quelle pasticcerie tedesche dove si entra e si sente il profumo della cannella della noce moscata quel profumo gourmand per quanto è lo speziato ma non troppo dolce non troppo zuccherato non troppo vanigliato un gourmand quasi ombroso quasi scuro magari con dello zucchero di canna ecco mi viene in mente un'immagine del genere e la cosa che mi ha sorpreso è che nell'evoluzione quando si asciuga esce questa pesca nettarina che si sente e si sente tantissimo fino a quando svanisce e svanisce dopo veramente tante ore comunque un profumo che su di me rimane presente per 5-6 ore tutte se poi alla sera prima di uscire me lo voglio rispruzzare diciamo che si rinvigorisce si dà ancora quel tono è un profumo bellissimo allora questa pesca nettarina alla fine gli regala anche una freschezza una freschezza fruttata una pesca nettarina molto matura molto profumata molto succosa e fa un po' l'occhiolino a questa fragranza che viene definita fiorita gourmand mi piace tantissimo è un profumo sicuramente che sentendolo adesso è uno degli ultimi che ho preso questo che sentendolo adesso non indosserei probabilmente con delle temperature troppo calde perché proprio per le spezie per il profumo speziato per questa cannella è davvero un profumo caldo avvolgente coccoloso carezzevole buonissimo veramente un profumo molto molto buono vi dicevo alcune volte andiamo alla ricerca di chissà quale novità di chissà quale nota diversa originale ma abbiamo sugli scaffali dei profumi che secondo me sono un po' dimenticati e di questo vi avevo già detto voglio fare un video perché nei miei profumi ne ho veramente veramente tanti di profumi di cui non sento più parlare perché sono stati sorpassati dai nuovi brand da questa profumeria araba che sta veramente spaziando e che io amo tantissimo e infatti come ultimo profumo avrò un profumo arabo e ne sto provando tantissimi perché mi piacciono davvero tantissimo però magari se vogliamo trovare a un piccolo prezzo un ottimo profumo di una casa che ha creato davvero tante meraviglie per esempio questo costa 15 euro e 25 io l'ho preso sulla casa del profumo e sono 50 ml quindi un prezzo di tutto rispetto per un signor profumo gli ultimi due profumi sono due profumi di cui io sono innamorata questo profumo questo profumo lo adoro allora è il profumo Buccheron 4 di Buccheron di questo profumo mi sono innamorata persa ma veramente mi sono innamorata persa io non ne ho sentito praticamente parlare se non dalla mia amica Amarillis Ami ciao Ami del canale Cubra Libre che se non conoscete ma è impossibile vi invito a conoscere perché mi piace tantissimo il suo canale sia per i contenuti ma proprio per la persona che è Ami o Emi non so bene come si dica è una persona solare allegra ironica simpatica e soprattutto è una persona sincera e vera e io ricerco questi contenuti questi canali e queste persone l'ha mostrato nel suo ultimo video dicendo che anche lei lo amava tantissimo ed era uno dei suoi preferiti ma per il resto io non ne ho sentito parlare da nessuno allora già la bottiglia è meravigliosa qui si alza si gira così rimane chiuso e qua invece rimane aperto io amo questo profumo lo amo alla follia io questo me lo spruzzerei mattina sera pomeriggio di notte e lo faccio infatti sono arrivata a metà quasi mamma mia quanto è buono allora le note di testa sono pompelmo tangerino limone e arancia le note di cuore sono gessomino mela fragola rosa e pesca le note di base sono muschio bianco cashmeran legno di cedro vaniglia e caramello sulla mia pelle le note di apertura sfuggono velocemente come un battito d'ali mi regala però subito un profumo fiorito molto intenso con delle sfaccettature fruttate ma non agrumate io gli agrumi che ci sono nelle note di testa veramente le percepisco pochissimo proprio solo all'inizio è un profumo dolce zuccherino intenso avvolgente ma nonostante questa intensità dei della rosa del gelsomino che si sente tantissimo rimane comunque un profumo fresco che è portabilissimo in tutte le occasioni in tutte le giornate fresche e calde è un profumo di un'eleganza meravigliosa di una signorilità stupendo quando voi passate con questo profumo lasciate la scia a me che ci faccio la doccia la mattina dura per tutta la giornata quando passo nel portico e poi rientro lo risento è un profumo su di me da scia molto persistente su di me dura tutta la giornata veramente tutta la giornata e alcune volte non ho neanche la necessità di rispruzzarlo per risentirlo sui vestiti poi non ne parliamo e scusate lo spruzzo perché io lo amo madonna quanto è buono è buonissimo c'è poi in asciugatura una parte zuccherina anche qui di zucchero vaniglia e caramello che si fonde con questi fiori e non so ci regala una carezza vellutata sulla pelle è un profumo che secondo me se non conoscete voi dovete provare è davvero 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 meraviglioso io questo ve lo consiglio io l'ho comprato come sempre a scatola chiusa e mai acquisto è stato più indovinato presumo di finirlo quest'estate perché mi piace troppo mi piace tantissimo e la prossima volta ne comprerò un 100 ml questi sono i profumi che sono sicura mi piacciono sempre e che indosso sempre è un profumo che ti fa sentire sempre a posto che ti fa sentire sicura sempre in ordine lo puoi indossare in ufficio lo puoi indossare per andare a fare delle commissioni è un profumo che si sente ma non è invadente è una meraviglia una meraviglia io questo ve lo consiglio tantissimo ah ecco vi dico il prezzo che non mi sono ricordata di dirvi 50 ml e l'ho pagato 21 euro ma questo è una meraviglia mamma mia una meraviglia ed ora vi prego 5 minuti di silenzio per questa bellezza no ma guardate voi cosa non è cosa non è questo profumo io mi sono innamorata sia della confezione ma anche del profumo questo è un profumo arabo della casa Zimaia che io amo e ne ho davvero tantissimi e non l'ho mai visto da nessuna parte penso di averlo scoperto io come si dice ma scherzo non mi interessa aver scoperto un ben niente perché nessuno scopre nulla però mentre stavo facendo dei miei acquisti l'anno scorso a fine dicembre se non ricordo male mi è apparso su un ottino questo profumo e colpita dall'eleganza e dalla bellezza della boccetta per non parlare poi quando ho visto questa meraviglia ho guardato le note facevano al caso mio e zac è entrato nel carrello questo è un perfetto profumo per l'estate testa pera bergamotto vaniglia cuore tuberosa d'india arancia gessomino fondo vetiver muschio ambroxan allora innanzitutto vabbè guardate è un spettacolo adesso ce lo spruzziamo e anche qua sto andando piano perché purtroppo questo profumo non c'è più su un ottino non arriva più su tantissimi siti arabi non l'ho mai visto l'ho trovato soltanto su vivantis allora buonissimo mamma quanto è buono è un fiorito fresco fruttato gioioso e delicato avvolgente perché comunque questa sinfonia di frutti e di tuberosa d'india che è una tuberosa molto fruttata che regala comunque ai profumi dove è inserita quel tono fruttato e floreale c'è c'è la fada padrona è veramente meraviglioso c'è questa pera c'è questo bergamotto c'è la dolcezza della vaniglia però c'è anche la tuberosa d'india c'è il gelsomino che regala intensità a questo profumo perché questo profumo lo spruzzate la mattina poi non lo spruzzate più allora non è il tipico profumo arabo con delle spezie con i toni pesanti legnosi a proposito di profumi arabi vi consiglio e se sono capace lo metto nell'info box un video sempre di Amarillis di Ami dove veramente fa un interessante percorso sul sfatare questo mito che i profumi arabi sono comunque tutti pesanti tutti avvolgenti tutti speziati tutti carchi è davvero un video che mi è piaciuto tantissimo a me piacciono tutti i suoi video ma questo l'ho trovato molto molto interessante e vi consiglio di andarlo a guardare se vi interessa appunto capire qualcosina di più ve lo lascio nell'info box perché penso che sia un video interessante che per chi come me l'ha pensata sempre così ci può anche far cambiare idea allora questo è un profumo splendido meraviglioso tutte le note si miscelano perfettamente insieme e ci regalano un bouquet fiorito fruttato dolce ma mai troppo fiorito mai troppo dolce mai troppo fruttato è comunque un profumo bilanciato da scia pazzesca e da durata pazzesca se anche voi cercate queste due caratteristiche che per me non sono fondamentali perché comunque lo sapete io me lo rispruzzo quante volte voglio infatti i profumi mi finiscono così ma d'altronde se no come faccio a comprarne di nuovi questo è un profumo mai troppo ma è un profumo che vi avvolge che vi abbraccia che vi regala la nota fruttata ma vi regala anche la nota fiorita una nota zuccherata vanigliata è un profumo da mille una notte secondo me buonissimo perfetto per un appuntamento estivo alla sera perfetto comunque per andare in ufficio se non ne mettete troppo perfetto per andare ad un aperitivo in riva al mare in riva al lago è comunque un profumo anche per un'occasione speciale questo è un profumo meraviglioso io in questo profumo anche se non sono riportate queste note nella piramide olfattiva ci sento anche dei frutti rossi dei frutti rossi che regalano anche una certa freschezza una certa acidità una certa asprezza al profumo in modo che non diventi veramente quasi asfisiante troppo dolce troppo fiorito ma si amalgama tutto meravigliosamente in questo cocktail gel di frutta vaniglia fiori è per me una meraviglia è una meraviglia davvero lo definirei il profumo da mille e una notte perché lo trovo sensuale femminile elegante ma anche giocoso per la frutta giovanile sbarazzino adatto a qualsiasi genere uomo donna perché no io non definisco mai un profumo femminile o maschile perché ognuno ama quello che vuole e gli piace qualsiasi profumo che voglia indossare quindi per me non ci sono profumi anche perché io amo pazzamente tutti i profumi definiti maschili e ne uso tantissimi ebbene con questa meraviglia io ho finito questo profumo io l'ho pagato 16,70 euro per 100 ml e lo centellino perché se non c'è più questo mi spiacerebbe davvero tantissimo riponiamolo nel suo scrigno prezioso ebbene speriamo che tutto questo parlare di fiori di frutta di profumi che richiamano la primavera la facciano finalmente arrivare perché siamo veramente veramente stufi anche se le previsioni di questa settimana qui all'ecco sono pessime ma fa niente noi continueremo non sarà il primo video sui profumi primaverili ci saranno anche profumi sicuramente più agrumati più freschi più acquatici più verdi più azzurri che per me richiamano comunque l'estate l'estate calda ma ci saranno tantissimi altri profumi qui ne abbiamo a centinaia e quindi è giusto che io ve li racconti e li condivida con voi vi abbraccio grazie mille sempre per tutti i vostri commenti per la gentilezza che avete nei miei confronti stiamo crescendo piano piano siamo arrivati a 3500 e passa iscritti quindi vai che andiamo alla grande io vi ringrazio sempre perché vi ripeto sento il vostro affetto in ogni parola che mi dedicate e vi do appuntamento ad un prossimo video a presto e grazie ciao